Ciao ragazzi, ciao ragazze e ben tornata a me con aria questo è il video di questo tutorial che lo vedrete meglio nel mentre è un trucco sul viola dorato di orpi che viola ambrugna con una bella mangiata in giro un po' di mascara e non ho fatto neanche perché ho rimanesso giusto un po' di terra e un po' di blush niente, grazie al tutorial, ci vediamo al prossimo video Ciao! 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 Ciao!